Buongiorno, oggi è il 7 febbraio, noi precari autisti della Croce Rossa Italiana di Perugia praticamente iniziamo da oggi un presidio di più davanti alla sede regionale della Croce Rossa dell'Umbria proprio contro questo atto unilaterale che hanno deciso senza convocare neanche le organizzazioni sindacali di recedere da una convenzione in atto che era in scadenza a febbraio 2012 e quindi di fatto questo ci comporta il licenziamento di tutto personale precario. Tutto in silenzio, ancora da parte della dirigenza non c'è stata data nessuna comunicazione, mentre da parte dell'azienda sembra che sia valorata questa tesi e quindi da oggi comincia un sit-in di protesta dove però garantiamo i servizi primari ai cittadini perché quelli sono in primis però in base ai turni e al lavoro noi saremo di più a protestare. Invitiamo anche la popolazione a partecipare e a me si era un'altra notte.